Adesso ascolterete l'entità Amedeo, mentre materializza per chi parla, l'apporto di una vertebra. I passi che si odono sono quelli dello strumento che mi ha raggiunto nel buio. Il suono dell'orologio a pendolo è casuale e non fa parte del fenomeno, anche se Amedeo vi si riferisce per dire come lui vive il tempo in quel suo momento evolutivo. La materializzazione è alquanto sofferta e può essere motivo di turbamento, ce ne scusiamo, ma si sappia che adesso Amedeo, grazie a questa e ad altre sofferte materializzazioni dello stesso genere, ha superato la limitazione che lo teneva avvinto al suo corpo fisico di tre secoli fa. Sì? 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Mi raccomando, mi raccomando che ti ce l'ha tradito, perché ti dà troppo un amore. Ricorda, se io sono a vedere, e come questo dolore sarà sempre con te, e quando sarò riuscito a staccarmi per la materia completamente, che ti dà troppo staccarmi per la materia ma quella che ti dà troppo staccarmi per la materia. La mia vita è piena, ma che siete in Aberta e la mia vita è nascita. E così, anche io non ci c'è stato alla mona di questoüyso locale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.